buongiorno a tutti benvenuti nel corso di applicazioni web 1 io sono il docente titolare del corso Enrico Masala e in questo corso saremo aiutati anche da Luigi De Russis che ci darà una mano principalmente per la parte dei laboratori questo corso inizia in questa modalità un po particolare ma comunque avremmo avuto intenzione di mettere a disposizione video lezioni che in ogni caso per cui va bene così il corso di applicazioni web 1 che come sentite si tiene in italiano perlomeno per la parte audio a parte quello che vi racconto a voce è affiancato dal corso di web applications 1 con identico programma identico materiale tenuto però in inglese dal professor Fulvio Corno affiancato da due collaboratori qual è lo scopo di questo corso scopo di questo corso è avere una conoscenza diciamo abbastanza approfondita delle architetture della base del web e per web intendiamo in questo corso soprattutto la conoscenza e la capacità di gestire bene applicazioni web dal punto di vista del progetto e dello sviluppo per fare questo dovremmo acquisire una conoscenza molto approfondita del principale linguaggio di programmazione che viene utilizzato in ambito web che come forse molti di voi sapranno è javascript e del relativo ecosistema cioè di tutto quello che sta intorno e che ci consente di interagire con l'ambiente per esempio con i browser web che utilizziamo per navigare appunto sulle pagine web e così via e nella seconda parte del corso vogliamo diventare più esperti di uno dei più popolari più diffusi framework di programmazione javascript e realizzare applicazioni web che va sotto il nome di react facendo però molta attenzione ponendo molta attenzione sulla parte di front end come si colloca questo corso all'interno dei corsi offerti dal politecnico di torino il corso che come abbiamo detto in due istanze uno in italiano e uno in inglese è completamente allineato dal punto di vista anche del materiale del corso che come vedete sarà tutto in inglese non dovrebbe essere un problema perché comunque l'inglese prima di tutto lo dovete conoscere secondo è una lingua fondamentale per andare a ricercare materiale all'interno delle risorse disponibili libri in rete e così via questi due corsi l'argomento di questi corsi sono seguiti nel loro flusso logico naturale dal corso di distributed system programming dove si affrontano in maggiore dettaglio le architetture distribuite di cui le applicazioni web sono fondamentalmente sotto insieme i protocolli necessari per far parlare queste applicazioni distribuite e i fondamenti delle applicazioni distribuite dopodiché si può arrivare ad un secondo corso di applicazioni web chiamato web applications 2 in cui si affronta ciò che non è stato affrontato nel corso di base cioè il presente corso ossia la programmazione del lato server che noi vedremo solo in minima parte quella minima parte che ci consente di realizzare delle applicazioni effettivamente utili utilizzabili ma con un focus principale sul client sulla programmazione client e poi si affronteranno argomenti più complicati come la scalabilità delle applicazioni come renderle fruibili a moltissimi utenti contemporaneamente e cosa bisogna fare per andare su una scala molto più larga da questi due corsi applicazioni web quindi primo o secondo è possibile arrivare al sviluppo di applicazioni mobili dove il front end cioè ciò che visualizza effettivamente la nostra applicazione non è più un dispositivo di computazione tradizionale cioè un personal computer ma un dispositivo mobile uno smartphone, un tablet e così via e quindi andando ad affrontare tutte le problematiche che sono relative alla programmazione di dispositivi mobili nel discorso generale è ancora da menzionare il corso di Human Computer Interaction che è un corso offerto a scelta ma importante per chi effettivamente vuole realizzare applicazioni che interagiscono con l'utente che abbiano una usabilità fruibilità ben pensate ben progettate in questo corso si parla principalmente di usabilità di design delle interfacce che sembra facile ma non è per nulla scontato è abbastanza complicato ottenere delle buone interfacce che funzionino come gli utenti e non gli utenti informatici ma gli utenti comuni si aspettano e tutto ciò che ruota intorno al cosiddetto Human Centered Processes tornando al nostro corso che cosa impareremo nel corso stesso? il corso è diviso in quattro parti non equivalenti in termini di dimensione però logicamente si possono raggruppare in questa maniera prima di tutto JavaScript come linguaggio di programmazione JavaScript ha a tutti gli effetti un linguaggio di programmazione lo vedremo affrontando principalmente la sua versione cosiddetta S6 che è tra le più diffuse e quindi ragioneremo illustreremo i costrutti principali ragioneremo bene sulla semantica di questi costrutti JavaScript ha molte peculiarità che devono essere conosciute per poterlo utilizzare efficacemente e non rimanere sorpresi da comportamenti che magari possono essere un po' strani per chi non lo conosce inoltre è possibile utilizzarlo in maniera molto diversa da quello che si fa con diciamo linguaggi di programmazione più tradizionali per esempio come il C che magari avete visto all'inizio dei vostri studi per esempio utilizzando una programmazione orientata più al funzionale utilizzando programmazione asincrona programmazione modulare nel senso che ci sono molti moduli molti contributi che andiamo a prendere da diverse parti che ci vengono in aiuto quando dobbiamo realizzare particolari funzioni e così via secondo elemento dobbiamo ovviamente imparare qualcosa riguardo all'ecosistema del browser cioè cosa ci mette a disposizione il browser perché le applicazioni web fondamentalmente girano dentro il browser quindi il browser è l'ambiente di esecuzione dell'applicazione web e in questo caso vogliamo andare a a parlare di HTML e CSS che dovreste già in buona parte conoscere come costruire una pagina del DOM cosiddetto document object model quello che ci consente di modellare tutto ciò che sta all'interno di una pagina in maniera utile ad essere manipolata da un linguaggio di programmazione come funziona il javascript cioè il linguaggio che abbiamo appena nominato all'interno del browser quindi tutte le peculiarità che riguardano il javascript quando gira nel browser in particolare gli elementi importanti come gli eventi quando facciamo qualcosa nel browser clicchiamo agiamo col mouse o interagiamo in qualche altra maniera dobbiamo essere in grado di gestirli correttamente sapere come funzionano eccetera le varie proprietà degli elementi per esempio del DOM eccetera gli enders le API application program interface messa a disposizione dei browser e così via terzo argomento cominciamo a realizzare delle applicazioni e diciamo in questo paradigma di programmazione lato client il meccanismo principale è quello della single page application dove avremo un'applicazione che fondamentalmente gira tutta nel client per quanto possibile nel nostro caso vuol dire nel browser per quanto possibile vuol dire che quando avremo bisogno utilizzeremo il server ma proprio il minimo indispensabile per esempio per andare a immagazzinare informazioni permanenti che vogliamo permangano tra una sessione di browser e la successiva e così via sul server andremo ad utilizzare node di cui parleremo più diffusamente più avanti che è un interprete per javascript in grado di girare in modalità stand alone senza browser e così via così possiamo utilizzare come linguaggio javascript anche lato server cosa che peraltro sta cominciando ad essere abbastanza diffusa utilizzeremo delle app come vedete rest il minimo indispensabile per far funzionare la nostra applicazione comunque utilizzeremo questo stand che di nuovo è anche abbastanza diffuso negli ambienti commerciali e lato server ovviamente vedremo come andare ad implementare funzionalità di storage quindi immagazzinamento dei dati gestione della sessione e dell'autenticazione degli utenti quindi il minimo che ci consente di realizzare un'applicazione web diciamo ben funzionante ultima parte del corso il framework react che abbiamo scelto per questo corso in quanto ci pare abbastanza diffuso abbastanza utile dal punto di vista sia didattico sia poi del vostro futuro lavorativo per facilitare la realizzazione delle applicazioni web e quindi andremo a vedere i vari elementi di interesse per noi che lo compongono quindi i componenti le properties lo stato come si giustisce lo stato il jsx che è una cosa un po' particolare di react per scrivere codice html e poi parleremo di hooks che semplificano di molto programmazione react e router come viene gestito in react questa è l'organizzazione del corso come sapete quest'anno le cose stanno andando in una maniera un po' particolare comunque in teoria se quando potremmo utilizzare le aule abbiamo a disposizione il venerdì l'aula 7i per tre ore consecutive e il giovedì abbiamo a disposizione la BINF che ci consente di andare in laboratorio tutte le settimane prima una squadra nella prima ora e mezza poi una seconda squadra nella seconda ora e mezza durante il quale potremmo potremmo sperimentare con quanto abbiamo visto a lezione vi invito a portare il vostro calcolatore se volete perché potrebbe esservi utile per sperimentare anche poi a casa con più calma e vi invito a portarlo anche durante le lezioni quando le lezioni saranno erogate diciamo in maniera fisica nelle aule per ora sicuramente ce l'avrete sotto mano se state guardando questa lezione e avremo una e cercheremo fino a quando durerà questa didattica a distanza di avere delle sessioni più o meno interattive tramite questo meccanismo della classe virtuale virtual classroom offerto dal portale della didattica in maniera da poter interagire in tempo reale e provare a fare insieme esercizi e cose di questo tipo che avremmo fatto nell'aula reale per quanto riguarda i laboratori appunto dicevamo sono un'ora e mezza alla settimana per ogni squadra divideremo poi secondo la lettera alfabetica del cognome nelle due squadre lo faremo poi quando potremo effettivamente accedere al laboratorio cominceremo dalla terza settimana vedremo come la situazione evolve comunque questa è l'idea fondamentale quindi le prime due settimane di corso avevamo già previsto di non fare il laboratorio perché ci portiamo un po' avanti con la parte teorica in maniera ad avere qualcosa di sostanzioso da sperimentare in laboratorio quindi a livello pratico il materiale didattico è costituito dalle slide che cercheremo per quanto possibile di mettervi a disposizione in anticipo rispetto all'erogazione della lezione stessa questo è un corso nuovo quindi il materiale viene diciamo preparato stiamo aggiornandolo diciamo volta per volta quindi non l'abbiamo pronto sin dall'inizio non possiamo mettervelo immediatamente tutto a disposizione ma comunque ci sarà volta per volta come riferimento per trovare il materiale potete usare il portale della didattica oppure il sito che ho preparato di cui vedete l'url che corrisponde ad una pagina particolare del sito web del nostro gruppo di ricerca internet media group dove saranno rese disponibili slides e le registrazioni la differenza tra questo e il portale è che qui è tutto accessibile senza autenticazione quindi chi di voi ha problemi perché non è non si è ancora laureato la laurea triennale ma vuole già seguire il corso e così via può trovare il materiale qui oltre che eventualmente chiedermi l'accesso per il portale della didattica tramite un'email personale le slide come avete visto saranno di questo tipo saranno tutte in inglese manteniamo un materiale unico tra i due corsi italiano e inglese che da un lato semplifica l'organizzazione e mantiene perfettamente allineato il contenuto e dall'altro comunque vi abitua ad usare i termini inglesi che comunque vengono usati praticamente sempre in questo contesto in particolare applicazioni web eventuali variazioni del programma delle lezioni in termini di ore aule eccetera saranno pubblicate rese note tramite appositi avvisi sul sito del corso del portale della didattica eccetera se c'è necessità di variazioni dell'ultimo minuto utilizzerò anche il meccanismo del sms o email che è fornito dal portale della didattica utilizziamo questi screencast cioè registrazioni delle slide più audio del docente che parla per mettervi a disposizione questo materiale tanto più in questo periodo in cui ci sono queste condizioni un po' particolari non è possibile seguire in presenza in aula e verranno caricate queste registrazioni sul portale della didattica mano a mano che saranno disponibili tipicamente questo meccanismo un po' lento per cui tutte le volte che è possibile cercherò di caricarle anche in una playlist su youtube accessibili a chiunque abbia il link durante il corso faremo tanti esercizi e esempi e così via che metteremo a disposizione in forma sorgente su questo sito github pubblicamente accessibile e quindi da lì potete andare a prenderli e sperimentare e così via utilizzeremo git come strumento principale di gestione del codice sorgente se dovreste penso conoscere almeno i rudimenti di questo strumento di controllo di versione se non è così non vi preoccupate perché comunque lo utilizzeremo in maniera molto base e basteranno una settimana o due per prendere confidenza con questi strumenti qualche parola riguardo all'esame questo è leggermente diverso rispetto a quanto c'è scritto nella guida del corso nella scheda del corso perché chiaramente la guida e la scheda abbiamo dovuto scriverla molto tempo fa e nello sviluppo dei contenuti del corso ci è parso più opportuno organizzare l'esame in questa maniera che dovrebbe essere appunto un po' più facile gestione da parte sia vostra che nostra cosa è richiesto di fare all'esame sviluppare un'applicazione web usando le tecnologie che descriviamo nel corso quindi ci sarà da usare javascript chiaramente ma utilizzare anche il framework react per la parte client ci sarà da utilizzare da scrivere qualche pezzetto di codice diciamo da gestire del codice sul lato server tramite il framework node che consente come dicevo prima di far girare javascript sul server e quindi di agire come server web tramite un apposito pacchetto express o modulo express avremo bisogno di una base di dati in cui immagazzinare delle informazioni ci terremo molto leggeri in questo corso nel senso che non vogliamo installare un intero database server non è questo l'obiettivo del corso e quindi abbiamo deciso di usare questo modulo che si avvale di una libreria che si chiama SQLite che di fatto consente di avere un database semplice prestazioni limitate ma interamente contenuto in un unico file quindi avendo a disposizione il file abbiamo a disposizione il database copiando il file copiamo il database ripristinando il file ripristiniamo il database e così via e questo sistema consente comunque di avere tutta una serie di funzionalità che vengono fornite da database management system più complicati basati sul linguaggio SQL eccetera effettivamente è possibile interrogare i dati tramite query SQL eccetera utilizzeremo come base come sistema operativo di base di riferimento linux questo perché per far funzionare tutto il meccanismo in particolare il lato server di node è la scelta migliore al laboratorio c'è linux installato già configurato per far funzionare tutti questi meccanismi e quindi preferibilmente utilizzeremo linux io sto facendo questa presentazione su mostrandola tramite linux registrandola su linux e vi mostrerò e ho già configurato tutto su questo computer per far funzionare tutto in linux esattamente come in laboratorio chi avesse mac può usare anche mac volendo che non è molto diverso nella parte interna da linux chi avesse windows consigliamo caldamente di avere una macchina virtuale con ambiente linux perché rende molto più semplice tutta una serie di operazioni in particolare per esempio node la microsoft stessa autore autrice del sistema operativo windows sconsiglia di utilizzare node su windows è possibile usare anche windows linux app system che però non consigliamo perché ci sono alcune difficoltà e peculiarità che rendono poi difficile la gestione di una certa serie di operazioni quindi la cosa migliore è quella di avere una macchina virtuale con linux se avete windows in maniera che potete utilizzare un linux diciamo nativo in tutte le sue funzionalità per appunto sviluppare il vostro il vostro progetto e i vostri progetti di applicazioni web in laboratorio all'esame avrete a disposizione un calcolatore con sistema operativo linux sul quale programmare cosa dovrete fare dovrete modificare un progetto che vi daremo già noi in forma diciamo scheletrica un po' con alcune funzionalità ma non tutte quelle che vorremmo avere questo progetto vi sarà dato qualche giorno in anticipo rispetto alla data dell'appello stessa in cui bisognerà venire in laboratorio a sviluppare la funzionalità richiesta e questa funzionalità sarà tipicamente l'aggiunta alla realizzazione di una particolare funzionalità sul progetto che vi diamo e che sarà dato appunto a disposizione durante l'esame stesso modalità usando il computer della BIMF quindi programmando direttamente sul computer durante diciamo lo svolgimento dell'esame in nostra presenza sarà possibile utilizzare internet ovviamente per andare a cercare risorse inerenti a quello che dovete fare per esempio un modulo che vi potrebbe servire consultare una guida che vi potrebbe essere utile per poter diciamo aggiungere o vedere come quali sono i parametri di una determinata funzione e così via oppure anche per far funzionare il node stesso che vedremo ha necessità di andare a scaricare ed aggiornare i moduli quando vogliamo installarlo useremo git e in particolare github come piattaforma che mette a disposizione questo sistema classroom e ci sarà semplicemente quando sarete all'esame da clonare il progetto dell'esame quello che vi avremo dato in anticipo da studiarvi per diciamo riuscire a orientarvi un pochettino più facilmente il giorno dell'esame e poi realizzare una funzionalità programmando e alla fine effettuando il cosiddetto commit più push che sono due funzionalità di git che imparerete presto ad utilizzare salvando e inviando al server github il vostro lavoro fatta questa operazione nei giorni successivi valuteremo quanto avrete fatto tramite prove di tipo funzionale cioè cerchiamo di fare funzionare la vostra applicazione la facciamo girare vediamo com'è se funziona eccetera e poi esaminando il codice cioè le scelte implementative l'organizzazione del codice che avete deciso di utilizzare risorse fondamentali da utilizzare per il corso a sinistra vedete una risorsa web mozilla developer network che si chiede mdn che fondamentalmente vi consente di avere tutte le informazioni anche interessanti esempi su come utilizzare javascript e diciamo alcune funzionalità legate al mondo web quindi html css eccetera eccetera quindi con le guide di riferimento è tutto quanto è necessario sapere per andare a richiamare utilizzare le varie funzioni react reactjs.org abbiamo a disposizione di nuovo informa web una serie di tutorial e guida di riferimento quindi c'è molto online come sapete su internet si trova moltissimo anche semplicemente andando a ricercare su siti forum e così via dove si va a porre domande e aspettare risposte oppure semplicemente a leggere le risposte che altri hanno dato a domande poste da altri e spesso si impara molto da queste domande risposte che si trovano appunto su internet ci sono anche dei libri che seguiremo per quanto riguarda lo sviluppo del programma del corso i primi due libri a sinistra sono riguardano javascript il libro che seguiremo è questo javascript definitive guide settima edizione in inglese ma non dovrebbe essere un problema visto che il resto del materiale è in inglese ha un piccolo problema nel senso che c'è solo una preview attualmente disponibile e verrà rilasciato nel corso dei prossimi mesi e chiaramente è la versione più aggiornata che c'è a disposizione la versione precedente è già disponibile la sesta edizione ma come vedete dalla data 2011 non è molto aggiornata e quindi ci sono alcune funzionalità particolari di javascript eccetera che non sono trattate in quell'edizione questo per quanto riguarda javascript e per quanto riguarda react seguiremo questo libro full stack react che viene tra l'altro periodicamente aggiornato e che quindi è molto in linea con diciamo gli ultimi sviluppi di questo framework e nel corso delle lezioni dell'esercitazione e così via faremo riferimento a questi libri e nelle slide troverete anche dei riferimenti a questi due libri così che abbiate proprio i puntatori dei capitoli dei libri o delle risorse web che abbiamo utilizzato che conviene consultare per avere informazioni aggiuntive riguardo a quello che è stato descritto esistono anche tutta una serie di libri online di risorse online per esempio esistono questi questa serie di di libri you don't know javascript yet non conosci ancora javascript che coprono aspetti particolari del linguaggio javascript che sono un po' più avanzati in particolare questo set di libri un po' più avanzato dal punto di vista del livello richiesto per andare a capirli che però sono assolutamente interessanti perché cercano di spiegarvi non l'esempio o il modo con cui si utilizza un particolare reconstrutto e così via ma il perché in javascript una cosa funziona in questa maniera perché è stata implementata in questa maniera perché si dovrebbe utilizzare un certo pattern di programmazione e così via quali sono i vantaggi e gli svantaggi eccetera esistono anche questi handbook di questo flavio cobs che consigliamo che sono invece all'opposto molto più stringati sono appunto degli handbook cioè dei manuali in cui c'è quasi il minimo indispensabile per ogni funzionalità per iniziare a scrivere qualcosa di funzionante senza troppi problemi quindi vi consigliamo di andare a vedere soprattutto quelli riguardanti javascript gss html node e poi ovviamente react esistono tante altre risorse e quindi basta andare a cercare un po' in rete qui sono elencate un paio javascript.info devdocs.io però come sapete soprattutto in questo ambito in cui ci sono moltissimi utenti della rete che si interessano di queste tematiche scrivono sviluppano e così via si trova tantissimo materiale appunto in giro quali strumenti andiamo ad utilizzare nel corso vi consiglio di guardare questi strumenti e se è possibile cominciare ad installarli così che nelle prime sessioni interattive che avremo presumibilmente online visto l'andamento della situazione e se voi avete già pronto sul vostro calcolatore gli strumenti di sviluppo che vi servono per lavorare riusciamo a procedere più speditamente a sinistra vedete node che è quell'interprete javascript che gira che faremo girare come server delle nostre applicazioni web useremo la versione 12 lts che vuol dire long term support ossia quella che viene mantenuta per un certo periodo di tempo diciamo almeno un anno due così che non dobbiamo cambiare in corsa che è sempre un'operazione complicata ci sono le istruzioni per l'installazione su molti sistemi differenti tra cui linux e varie varianti di linux vi consigliamo di installare la versione 12 e non di tenere la versione che magari viene già preinstallata con i pacchetti di linux perché è la versione attualmente appunto quella che più recente con un buon supporto e essere tutte lineate sulla stessa versione ci consente di non avere problemi di compatibilità funzioni mancanti funzionalità mancanti e così via che sono sempre un problema esistono estensioni soprattutto per lo sviluppo di react per chrome e firefox sono i due browser principali ma possiamo poi andare ad utilizzare un qualsiasi browser diciamo ragionevolmente moderno che supporti in maniera ragionevolmente completa javascript e fondamentalmente questo vuol dire chrome firefox safari e se vogliamo edge e questa estensione ci consentirà di andare ad analizzare meglio che cosa succede all'interno di react ma non è fondamentale almeno inizialmente perché comincieremo a lavorare in javascript pure ambienti di sviluppo noi vi consigliamo questi due ambienti uno è il visual studio code che trovate installato ovviamente anche in laboratorio alla binf e l'altro è il webstorm della jetbrain il primo ambiente visual studio code è disponibile gratuitamente per tutti è scaricabile liberamente quindi potete scaricarlo e installarlo tranquillamente sul vostro computer il secondo non è open source ma è comunque disponibile gratuitamente per tutti gli studenti del politecnico quindi potete andare ad utilizzarlo tranquillamente qual è la differenza tra i due inizialmente useremo il visual studio code perché è più vicino a effettivamente quello che succede all'interno del calcolatore cioè ci consente di vedere tutti i file che sono presenti nelle cartelle creare scrivere senza neanche diciamo con un po' di aiuto il javascript ma senza che l'ambiente faccia troppe cose di nascosto e così via e quindi va bene per capire inizialmente come funziona javascript e tutto quanto collegato node e gli strumenti di installazione di gestione dei moduli i pacchetti e così via del node stesso questo ambiente jetbrain è un po' più potente diciamo così ma vi nasconde alcune di queste funzionalità e quindi certe cose capitano in maniera un po' diciamo così magica e non non vi rendete conto di quello che l'ambiente fa per voi che non è che va bene solamente appunto se avete già una conoscenza di quello che sta succedendo perché altrimenti quando vi trovate senza questo ambiente poi non riuscireste più a lavorare in maniera proficua e sareste sempre bloccati su qualche aspetto di non particolare interesse per lo sviluppo con queste lezioni ho terminato questo primo blocco di slide vi invito quindi ad installare questi ambienti di sviluppo e per la prossima volta che ci vedremo online presumibilmente con il sistema della virtual classroom del portale della didattica in maniera che possiamo come detto fare un po' di esercizio online insieme e cominciare appunto a lavorare su quello che avremo appreso nel frattempo nelle lezioni che di volta in volta vi verranno presentate grazie per l'attenzione e al prossimo video